Io non ho neanche avuto la soddisfazione di venire a Reggio alla Liberazione, perché si erano nascosti dei soldati tedeschi lì, che non si sapeva mica cosa volessero fare, e invece poi l'abbiamo scoperto, ma il giorno dopo erano rimasti lì per non fare più la guerra, per non andare dietro i suoi, magari dalla paura di annegarsi giù dal po'. E due avevano le morose che poi si sono sposati lì, che ci sono i figli adesso.